Nella provincia in cui nasce il secondo bacino idrico d'Europa sarà un'estate tribolata. La ritecola brodo di alto calore non viene riparata, i prossimi mesi saranno molto difficili. L'aumento dei consumi idrici e le perdite sulle quali non si riesce ad intervenire rapidamente stanno determinando in vari comuni irpini una vera e propria emergenza idrica. A questa annusa questione c'è da aggiungere il problema del calo delle portate d'acqua, delle sorgenti e l'abbassamento del livello dei puzzi, un quadro che fa temere seri problemi tra fine luglio ed inizio agosto. Le situazioni più difficili interessano in particolare la fascia del Partenio, da Mercogliano ad Ospedaletto, su Monte, San D'Angelo a Scala e Pietra Sornina, difficoltà anche a Rotondi e Rocca Bascerana. A Monteforte da alcuni giorni l'acqua nelle case arriva a Singhiozzo, intanto alcuni comuni si dicono pronti a mettere a disposizione i propri tecnici per intervenire sulle rotture. È importante non dimenticare che in questo momento è necessaria la collaborazione dei cittadini che devono evitare sprechi come riempire piscine, lavare auto, innaffiare giardini, anche più volte al giorno queste operazioni vanno limitate.